Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo video Adesso mi ha preso un po' di fare questi video mezzi corti, no? No, scherzo Comunque, siamo qui con il Volvo FH16 700 e stiamo portando locomotive Sto portando, perchè non è un video della serie Guardate un po', io pesano 75, 75 tonnellate, tre volte il carico massimo del gioco Che già pesa Guardate Sì, cambia anche marcia Comunque non è quello brutto, è che mi hanno dato un 6x4 E guardate, non giri, ora, ora un po' di più gira Ma quando siamo in accelerazione, toc, guardate Devo girare tantissimo Non gira niente Cioè, una curva, questa curva io la farei girando tanto così No, da sotto tutto Per fortuna che ho G27 Se avessi la tastiera io non so se ce la farei Perchè la tastiera ci mette un po' a girare, no? Invece col volante c'era attivo Ma non per forza a G27 qualsiasi tipo di volante Il gamepad no, perchè Non è un po' a girare Io sono abituato a sterzare poco Nel video scorso Cioè, o quello che è venuto ancora prima, non so Quello comunque che portavo il Baobab Non mi faceva sto scherzo Quello sterzo, eh E poi anche due assi dietro Non so come faccio a impennarsi Poi anche abbastanza distribuiti dietro Intanto qui andiamo alla pubblicità della pulita Ma ho preso il carico più veloce che c'era Ho detto ma sì dai, un'ora e tredici Ora voglio vedere adesso di qua Ho detto un'ora e tredici, sì dai, cioè Si può fare Poi ho detto, poi... Intanto non frena Cioè, non ancora Io sto schiacciando a fondo il pedale del freno Ora, ora l'ho mollato Non sarà meglio metterci la quinta No, la sesta, la quinta Guardate, fa fatta curva Guardate che butto giù il cartello adesso Si, intanto, ci metto la prima per partire Non tira Non tira, top Oh, me la mette a scuola Sì, è un po' ora di nuovo So che i camion non andrebbero Tirati così tanto Guardate per far sta pure Guardate Ma se non lo faccio così ragazzi Il camion non va So, anch'io che si rovina Il camion al massimo 1500 giri Bisogna cambiare Ma massimo, massimo, eh Però se non lo faccio così ragazzi È un gioco, quindi non va Poi non cambiando mai tutte le marce Non sono manco abituato Guardate qua Che cosa mi combina Beh, penso che questo sia l'ultimo video Di questa, diciamo, un po' serie Qua Corta Nel senso Che vi faccio vedere Sare a due minuti Tre Che vi faccio vedere così Nel caso succeda qualcos'altro Magari ne farò anche altri Niente Questo è il carico M Sessantadue Le locomotive Che poi è una sola Datene tutto Ciao a tutti Auguratemi un buon viaggio Ciao a tutti